Si avvia un grande percorso che in tre anni darà un ospedale pediatrico nuovo, un nuovo Salesi collegato e distinto nello stesso tempo dalla struttura di Torrette. I bambini avranno il trattamento che aspetta i bambini e oggi per andare a fare una risonanza dal Salesi a Torrette bisogna prendere l'ambulanza per intenderci, in unica soluzione qui. La cura totale per i più piccoli a metri zero è quella che nello stesso raggio della cittadella sanitaria fornirà servizio da 0,99 anni H24. È il nuovo Salesi, il tassello mancante che vedrà sorgere il nuovo pediatrico dotato di 112 posti letto nell'area dell'ospedale regionale a Torrette di Ancona, oggi il sopralluogo del datore di lavoro, ovvero la Regione Marche. Un investimento totale di 70 milioni di euro per 1022 giorni di lavori, con una scadenza contrattuale il 25 febbraio 2022. Per rispettare i tempi, dicono i progettisti, ci saranno fasi successive che partiranno con la costruzione della nuova anatomia patologica, la demolizione dell'attuale e quindi il cantiere vero e proprio dell'ospedale. Qui si lavora in un'area praticamente dove c'è un ospedale funzionante e praticamente noi dobbiamo andare a fare interventi per fasi. Un domino che porta a riqualificare anche altre strutture, il sorgere pediatrico permetterà di avere la nuova camera mortuaria, le nuove strutture tecnologiche, spazi al sesto piano dell'ospedale attuale per la parte ginecologica in un'integrazione, in un rinnovamento della struttura molto importante. A fianco di questo gli investimenti per mettere completamente in maniera antisismica la struttura di Torrette e il nuovo parcheggio ed altro che si avvieranno. Tra i servizi accessori infatti anche un nuovo parcheggio in project financing da circa 600 posti che farà salire a 1200 il numero di posti a disposizione. Nel progetto del nuovo Salesi una forte antisismicità e stanze più grandi in grado di ospitare anche il genitore nella camera pediatrica.